orrore a falconara nasconde la madre morta per incassarne la pensione vaccini domenica di caos a pesaro ma ora calano le somministrazioni primo maggio di violazioni del coprifuoco arrivano le multe sport fan ai play out con limonese it al service playoff con matera una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che ci seguite sul canale 633 delle digitali terrestre lunedì 3 maggio lunedì vuol dire ricominciare con l'informazione quotidiana della sera con rossini news il nostro telegiornale che questa sera apriamo andando oltre i confidi della provincia di peso rubino purtroppo per una bruttissima notizia di cronaca una notizia inquietante che arriva da falconara città della provincia anconetana dove un uomo di 47 anni aveva nascosto il cadavere della madre di 78 anni morta da circa tre mesi un occultamento mosso dal poter continuare a percepire la pensione della donna deceduta la tragica scoperta è avvenuta nella sera del primo maggio e a farlo è stata la sorella dell'uomo insospettita e spazientita dalle continue risposte evasive del fratello circa lo stato di salute della madre entrata in casa la donna ha constatato la terribile scoperta della mamma morta e in stato di decomposizione e allertato i carabinieri il 47enne che alla vista dei militari ha raccontato come stesse per chiamare i soccorsi è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello stato e ora cambiamo argomento e facciamo il punto sui vaccini anti covid 19 nella città di pesaro e anche nella regione marche il punto vaccinale pesarese dell'ex risto ha vissuto giornate piuttosto caotiche in questo weekend sia ieri che sabato primo maggio da oggi è invece tornato ad operare in regime di ben altra tranquillità i motivi ci vengono spiegati in questo nostro primo servizio ci troviamo all'esterno delle punto vaccinale di pesaro nella galleria del rossini center all'ex risto dove oggi lunedì 3 maggio si è normalizzata una situazione che invece ieri era andata completamente fuori controllo domenica sono infatti anche intervenuti i carabinieri per ristabilire l'ordine in una mattinata convulsa in cui si è creato un overbooking di prenotazioni che ha chiamato nello stesso giorno 482 persone per il richiamo della seconda dose di fighter e altri 155 over 65 per la prima dose del vaccino astrazeneca non è chiaro quale sia il motivo che ha portato a questa congestione di persone dove fra attese proteste e rifiuti di chi continua a dire no alla prima dose con astrazeneca si sono di fatto suriscaldati gli animi nel corso della giornata è stata poi aggiunta una postazione medica in più che ha portato a normalizzare la situazione nel pomeriggio oggi come potete vedere tutt'altro scenario nessuna persona in fila meno somministrazione di vaccine meno persone da vaccinare ieri purtroppo si è accumulato abbiamo avuto due problemi sul senso che si è stato il primo vaccino e il richiamo quando c'è così c'è stato il sovraffollamento di persone che poi non arrivano rispetto agli orari un po' è anche questo perché magari arrivano tutti a una certa ora di conseguenza abbiamo avuto un grosso indasamento lungo la galleria a certo punto abbiamo dovuto anche bloccare gli ingressi oggi invece è tornata tranquillamente alla normalità perché oggi c'è solo il primo vaccino e la gente senza fila entra dentro tranquillamente oggi siamo sotto diciamo la media noi giriamo su 800 vaccini al giorno oggi saremo 500 fra mattina e pomeriggio perché la straserica ci crea questo problema allora abbiamo abbassato un pochino il numero per permettere per non fare la fila che abbiamo fatto che ieri di conseguenza sta scorrendo abbastanza bene perché purtroppo la straserica ci fa perdere tra virgolette tempo ovviamente no perché le persone che vanno dal medico hanno bisogno di più tempo per chiarire le loro patologie per fare in modo che come dico per cercare di fare magari un altro vaccino allora dal medico perdo un po' più tempo questo ci fa un po' da tappo oggi abbiamo abbassato i lunghi per fare in modo di non fare lunghe attese come come è successo ieri e il primo di maggio intanto l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini ha riferito come in questo mese di maggio non arriveranno i rifornimenti di dosi sperate saranno infatti 220 mila i vaccini che saranno recapitati nelle marche fino al 20 maggio cioè molti di meno di quelle che potenzialmente la regione è in grado di somministrare aprile nelle marche si è conclusa con la somministrazione di quasi 14 mila vaccini in un giorno ma ora si è costretti a scendere di 3 4 mila dosi saltamartini ha fatto sapere che si spera di tornare a 12 mila vaccini quotidiani verso la fine della prossima settimana le marche intanto hanno vaccinato ad oggi più di 570 mila persone con una percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnate che la mantiene al secondo posto su scala nazionale dietro alla liguria restiamo in ambito sanitario perché come ogni lunedì si abbassa il report quotidiano dei tamponi effettuati dal servizio sanitario regionale nella giornata di domenica sono infatti stati testati 779 tamponi di cui 318 nel percorso nuove diagnosi i positivi nelle marche sono 59 di cui 30 in pratica alla metà in provincia di pesaro e urbino un solo decesso registrato nella giornata di ieri così come uno solo si era registrato anche due giorni fa sabato sera in tanti sui canali social di rossini tv ci avete seguito mentre vi abbiamo mostrato in diretta la manifestazione di un centinaio di persone che nella serata del primo maggio hanno deciso deliberatamente di violare il coprifuoco ritrovandosi alla palla di pomodoro e per le vie della zona mare la polizia intervenute ha sanzionato la violazione elevando multe a tutti i partecipanti nel prossimo servizio realizzato da marco cadetto vi mostriamo le testimonianze di alcuni partecipanti a questo atto di disobbedienza sabato primo maggio 2021 sono esattamente le 22 04 siamo qui alla palla di pomodoro in piazzale della libertà alle nostre spalle sta iniziando la manifestazione contro il coprifuoco istituito dal governo c'è un abbondante schieramento di polizia come vedete anche dalle immagini che stiamo riprendendo e la gente si sta piano piano radunando per dimostrare il proprio sentimento nei confronti di questi provvedimenti che secondo la loro opinione sono del tutto anticostituzionali siamo qui perché dalle dieci in poi il virus dicono che in giro e noi vogliamo capire se è veramente in giro no sostanzialmente pensiamo che è ora di far capire che è tutta questa paura tutto questo modo di bloccare l'economia anche se il virus c'è è ora di di bloccarla sta cosa qua perché gli italiani hanno bisogno di ritornare alla normalità questo è non sono in rappresentanza di nessuno ognuno di noi rappresentato di se stesso per quelli che sono i diritti di ciascuno di noi di ciascuno di noi al contrario di chi non sta capendo di qual è la sua reale libertà e quali siano esattamente gli ambiti in cui può muoversi si sta arrivando a un eccesso di 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 imposizione quindi forse anche quello che è stato l'intervento della polizia con benotto camionette semplicemente e non sappiamo anche quanti altri carabinieri a verificare che cosa si volesse dire o fare c'è parso un attimino sproporzionato a questo quello che non sono riuscito a comprendere e come a fronte di ciascuna sanzione amministrativa elevata di cui dovrà essere verificata poi al comando l'emissione o meno in capo al singolo è la non intenzione del singolo rappresentante delle forze dell'ordine a identificarsi io ho chiesto siamo in tanti potrei adesso fra dieci minuti essere bloccato da un altro poliziotto che mi nuovamente mi chiede il documento posso dire che ho parlato con la gente non le interessa ok ma perché perché tanto comunque sono in divisa a ok allora il numero di matricola lei non deve saperlo ma perché c'è una legge se non sbaglio del 94 che dice che loro devono essere obbligati loro per primi a dire salve sono la gente il maresciallo il pinco palla rossi cortesemente favorisco il documento questa è la loro allora se anche da parte loro manca l'esatta dimensione di quale siano i loro doveri si fa fatica noi a dimostrare quali siano i nostri diritti perché si sbilancia tutto ora è un disastro ed è quello al quale ci stanno portando oltretutto dividendoci perché sentire madri che dicono io torno a casa e mia figlia mi dice per colpa vostra continua a generare il virus che andate a fare queste cose è tristissimo si sta sbilanciando tutto dalla guerra ci sono stati dei partigiani che sono stati il 2 il 3 per cento della popolazione come forse saremo qui stasera però alla fine non ha cambiato l'italia ha cominciato a far capire la gente con loro comportamento che c'era la verità dietro e alla fine siamo risorti usciamo in piazza tutti è un appello che faccio tutti io sono penso finisauro venite che l'articolo 13 potete è di libertà l'articolo 21 potete protestare se le cose non vi va bene non c'è nessuna legge stasera a me mi hanno preso i documenti può darsi che mi arriverà una multa non lo so ma pago tranquillamente una multa se devo prendere la mia libertà la mia libertà quando il governo ha chiuso tutto ho pensato però è una scelta coraggiosa non ci sono ancora tanti casi coraggiosa quando è iniziata a non pensare ai bambini ai disabili a chi subiva violenze domestiche io ho detto ma ci penserà due giorni si può stare senza pensare intere categorie no due mesi lì l'ottanta per cento dell'autorevolezza morale l'ha persa poi una serie di altri errori mi sono chiesta chi sta pagando per questa gestione del covid chi ha pagato ve lo dico i bambini di tutta l'età gli adolescenti giovani adulti studenti la famiglia la cultura la coesione sociale l'imprenditoria posti di lavoro famiglie con reddito basso persone con altre malattie non covid disabili persone con malattie mentali famiglie con violenza domestica la libertà di cura la medicina integrata allora due milioni di screening in meno per i tumori che sono la seconda causa di morte in italia 180 mila all'anno due milioni di screening in meno 6 mila casi in più quindi avremo più morti di tumori reparti di cardiologia convertiti a covid della prima causa di morte in italia cioè queste sono stragi annunciate con questa gestione del covid quando anche vincessimo sarebbe la vittoria di pirro ma stiamo perdendo ci stiamo indebitando abbiamo sacrificato i più deboli della società abbiamo fatto guadagnare amazon ai super giganti della della di wind amazon l'e commerce fronte di connessioni corrieri la mafia la mafia sta vincendo con questo big pharma i produttori di pc ci hanno guadagnati grandi ci stiamo perdendo i piccoli se vincessimo la battaglia col covid avremmo perso comunque ma la stiamo perdendo 101 mila morti in più ma un governo così è un governo di incapaci il sindaco di pesero matteo ricci attraverso il proprio profilo facebook e si è rivolto ai bagnini pesaresi che a quanto pare stanno negando gli ombrelloni stagionali in spiaggia alle compagnie dei ragazzi per evitare assembramenti estivi ascoltiamo l'appello del primo cittadino tantissimi ragazzi e ragazze della città giovanissimi mi hanno spiegato che non riescono a trovare l'ombrellone quest'estate per andare al mare domani solleciteremo con una lettera tutti i bagnini della città a lasciare un po di spazio ai giovanissimi perché è davvero spiacevole che non gli lasciano un po di spazio in quest'estate che speriamo possa essere un'estate di rinascita e la quale i giovani possono ritrovare anche la voglia di stare insieme ovviamente sempre rispettando le regole e oltre a questo però voglio dirvi ragazzi che anche quest'anno allestiremo dei servizi nella spiaggia libera avremo tre piazzole sottomonte nelle quali ci sarà un ambulante per vendere cibo e bevande ci sarà la doccia gratuita ci saranno i bagni e ci sarà un deposito nel quale potrete lasciare l'ombrellone senza portarlo avanti indietro ogni giorno e al tempo stesso se vorrete potrete affittare dei lettini inoltre coloro che vinceranno il bando di queste spiagge e della gestione dei servizi nella spiaggia libera dovranno tenere pulita la spiaggia libera e quindi sarà una spiaggia libera ancora più pulita quindi vi invito a prendere in considerazione anche questa proposta nel frattempo domani scriveremo una lettera a tutti i bagnini per riservare uno spazio ai giovanissimi della città ci spostiamo da pesaro per tornare ad occuparci del tratto ferroviario fano urbino che continua ad essere oggetto di dibattito politico fra chi ne propone il ripristino e chi come il consigliere regionale andrea biancani insiste sulla possibilità di realizzare un ambizioso percorso ciclopedonale ascoltiamolo nell'intervista realizzata da Antonio Astuti come regione Marche gli scorsi anni abbiamo messo molte risorse per realizzare queste ciclovie sia lungo la costa adriatica ma soprattutto lungo le valli con l'obiettivo di collegare la costa con l'entroterra uno dei progetti molto importanti era quello di realizzare una vera e propria pista ciclopedonale lungo l'ex ferrovia fano urbino ricordo che parliamo di una ferrovia che è chiusa da oltre 34 anni e che come dire ad oggi non è possibile pensare ad una sua riattivazione come servizio ferroviario quindi abbiamo fatto questo progetto affiancato lungo i binari a circa un metro e mezzo dai binari che era un progetto secondo me di valorizzazione molto importante perché da una parte poteva migliorare la qualità della vita di tutti i residenti che vivono appunto in questa vallata perché in molte situazioni non ci sono marciapiedi non c'è niente quindi ma c'è a fianco un'infrastruttura abbandonata appunto da oltre 30 anni che poteva essere utilizzata ma dal nostro punto di vista era anche un'opportunità per il lancio turistico sono sempre di più le persone che decidono di viaggiare di viaggiare in bicicletta o che comunque decidono di andare a fare un viaggio dove ci sono infrastrutture della sostenibilità tipo questa e quindi sarebbe stata una grande opportunità purtroppo ad oggi l'attuale governo regionale ha deciso di modificare il progetto cioè di farlo fuori rispetto all'area di proprietà di RFI noi riteniamo che sia un errore ovviamente continuiamo un dialogo aperto e costruttivo con chi oggi ha vinto con chi oggi governa appunto il nostro territorio regionale perché penso che il confronto e il dialogo debba portare poi a una sintesi che però dal mio punto di vista deve essere quella di realizzare appunto questa infrastruttura a fianco alla linea ferroviaria non sono non sono necessari praticamente spropi un progetto che era stato condiviso con le varie amministrazioni e devo dire che i cittadini che purtroppo non è difficile riuscire come dire a dargli la parola ma se dovessero parlare sicuramente direbbero che vorrebbero un percorso ciclopedonale e non una ferrovia che creerebbe disagi perché ovviamente parliamo di una linea che passa attraverso le molte abitazioni centri abitati e quindi riattivarla creerebbe grandissimi disagi a chi ci abita ma soprattutto ci sono oltre circa 97 passaggi a livello dovrebbero essersi cioè attraversamenti e ad oggi pensare di fare 97 passaggi a livello in circa 50 chilometri penso che sia un progetto impossibile da poter portare avanti. In realtà comunque è vero che ci sono delle difficoltà politiche a livelli alti della regione esistono anche delle associazioni del territorio che comunque insistono sulla riattivazione della ferrovia sul vecchio percorso diciamolo forse è una questione un po strumentale perché tanto chi vive Fano chi conosce la città sa benissimo che sarebbe impossibile. Secondo me questa associazione devo dire che fa un lavoro che dal loro punto di vista anche presevole, cioè sono anni che ribadiscono la necessità di riattivare il treno. Il tema è che oggi chi governa deve fare delle scelte, io ritengo che questa sia una scelta che non sarà possibile portare avanti sia dal punto di vista tecnico ma anche delle reali risorse a disposizione, però devo dire che sono decine e decine di associazioni con i quali ci siamo incontrati, abbiamo organizzato proprio i giorni scorsi un incontro e a breve probabilmente verrà annunciata anche una data, giorno in cui faremo come dire una manifestazione ovviamente di sensibilizzazione ma anche pacifica per far capire che ci sono tante persone che invece vogliono che venga realizzato questo percorso ciclopedonale. Da domani 4 maggio e fino al 30 settembre 2021 sarà possibile fare domanda al bando che riconosce un contributo a chi rimuove l'amianto. Attraverso dei contributi regionali si potrà ricevere fino a 2.000 euro per ogni intervento di rimozione e smaltimento di elementi in amianto anche con eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici. Sono stati eletti nuovi presidenti di alcune CNA territoriali, ad Urbino sarà Fabrizio Aromatico, a Fermignano e Urbani a Francesco Rivelli, a Mercatale di Sasso Corvaro Giovanni Moneta. La Onlus Gulliver comunica ufficialmente all'annullamento dell'edizione 2021 della manifestazione Fiera Regionale del Riuso che da anni stava riscuotendo un crescente successo di apprezzamento e partecipazione. L'organizzazione della Gulliver ha constatato l'impossibilità a posticipare la fiera a settembre a causa di incroci fra volontariato e associazioni non conciliabili con l'attuale situazione sanitaria. Ed ora lo sport come ogni lunedì. È stato però un weekend senza campionato di basket ma si è conclusa la regular season di calcio di Serie C e di calcio a 5 di Serie A. Finisce la stagione della Vispesor che era già salva da una domenica dopo la vittoria di Mantua di otto giorni fa, mentre per il Fano la stagione continuerà con i drammatici play-out che li vedranno contrapposti al Limolese. L'Ital Service invece è pronta a giocarsi i play-off scudetto. Vediamo tutto nel servizio realizzato da Edoardo Razzi. Zero punti, due pesi diversi. Il weekend del calcio si conclude con due sconfitte, sia per l'Alma Juventus Fano che perde fuori casa con il Gubbio per 2-1, che per la Vispesaro, battuta internamente dal Sud Tirol per 3-1. La squadra di Mister Tacchinardi esce dalla terra umbra con l'amaro in bocca, perché perdendo l'ultima giornata di campionato non è riuscita ad aggiudicarsi il fattore campo per i play-out contro l'Imolese. Play-out che entreranno nel vivo quando il Fano scenderà in campo il 15 maggio in casa e a Imola il 22. Il Fano a Gubbio ha perso 2-1, rendendo vano il momentaneo pareggio di Carni e Lutti. Il gol, l'emozione, è durata poco perché ci hanno subito passati in vantaggio, però purtroppo non sono riusciti ad approfittare di questa possibilità e prendiamo quello che viene. Sconfitte in influenti invece per la Vispesaro, che pur cadendo in casa era sicura di una salvezza già ottenuta alla penultima giornata di campionato. Una Vis consapevole degli errori fatti durante la stagione, ma che alla fine può essere soddisfatta della permanenza in C per il terzo anno consecutivo. Oggi è la sconfitta più dolce, a prescindere dal risultato. Alla fine l'obiettivo che abbiamo raggiunto è stato un grandissimo obiettivo. Vuol dire che abbiamo lavorato sotto, abbiamo lavorato molto bene e abbiamo ampiamente meritato appunto questa salvezza. Era un percorso pieno di difficoltà e noi credo come gruppo sia stati bravissimi a fare partita dopo partita, a martellare, a raggiungere l'obiettivo addirittura una giornata prima. Quindi veramente bisogna fare un gran complimenti a Mister, a tutta la squadra, al gruppo che eravamo, che sia stati veramente bravi. Si conclude con una vittoria il campionato dell'Ital Service, che vincendo in casa contro il Kamedosson per 4-2, si dimostra in piena forma per disputare gli imminenti play-off. La partita, andata in onda su Rossini TV, è stata l'ennesima prova convincente di una squadra che ha dominato in lungo e in largo questo campionato, concludendo con 13 vittorie di fila. Ai play-off, l'Ital Service affronterà la signor Prestito, giocando l'andata al palanino pizza l'8 maggio alle ore 16 e il ritorno il 12 maggio, con l'eventuale Bella ancora in casa. E come avete potuto vedere da questo ultimo servizio di sport è stato un weekend senza basket, senza WL e sarà anche un giovedì, quello che arriverà tra tre giorni, senza il nostro appuntamento settimanale di Insieme a Canestro. Il fortunato format di basket di Marco Cadedu tornerà però giovedì 11 maggio con l'ultima puntata di questa stagione. È davvero tutto per questa nostra edizione del Tg, prima di salutarci vi ricordiamo però la nostra prima serata che arriva alle 21.15 con il nostro programma Storie, racconti di successo nella provincia di Pesaro e Urbino. La storia che andiamo a scoprire oggi è quella dell'imprenditore Paolo Baronciani, presidente dell'azienda concessionaria di automobili Diba. E si conclude qui questa nostra edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV, il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.